Un vampiro. Un racconto di Luigi Capuana, voce narrante di Rosanna Lea. «No, non ridere!» esclamò Lelio Giorgi interrompendosi. «Come vuoi che non rida?» rispose Mongeri. «Io non credo agli spiriti». «Non ci credevo e non vorrei crederci neppure io», riprese Giorgi. «Vengo da te appunto per avere la spiegazione di fatti che possono distruggere la mia felicità e che già turbano straordinariamente la mia ragione. Fatti. Allucinazioni, vuoi dire. Significa che sei malato e che hai bisogno di curarti. L'allucinazione, sì, è un fatto anche essa, ma quel che rappresenta non ha riscontro fuori di noi, nella realtà. È, per esprimersi alla meglio, una sensazione che va dall'interno all'esterno. Una specie di proiezione del nostro organismo. È così l'occhio vede quel che realmente non vede. L'udito sente quel che realmente non sente. Sensazioni anteriori, accumulate spesso inconsapevolmente, si ridestano dentro di noi, si organizzano come avviene nei sogni. Perché? In che modo? Non lo sappiamo ancora. E sogniamo, è la giusta espressione, a occhi aperti. Bisogna distinguere. Vi sono allucinazioni momentanee, rapidissime, che non implicano nessun disordine organico o psichico. Ve ne sono persistenti. E allora? Ma non è questo il tuo caso? Sì, mio e di mia moglie. Non hai capito bene. Noi scienziati chiamiamo persistenti le allucinazioni dei pazzi. Non occorre, credo, che io mi spieghi con qualche esempio. Il fatto poi che siete due a soffrire la stessa allucinazione nello stesso momento è un semplice caso di induzione. Probabilmente sei tu che influisci sul sistema nervoso della tua signora. No, prima è stata lei. Allora vuol dire che il tuo sistema nervoso è più debole o ha più facile recettività. Non arricciare il naso, poeta mio, sentendo questi vocabolacci che i vostri dizionari forse non registrano. Noi li troviamo comodi e ce ne serviamo. Se tu mi avessi lasciato parlare... Certe cose è meglio non rimescolarle. Vorresti una spiegazione dalla scienza? Ebbene, in nome di essa, io ti rispondo che per ora non ha spiegazioni di sorta alcuna da darti. Siamo nel campo delle ipotesi. Ne facciamo una al giorno. Quella di oggi non è quella di ieri. Quella di domani non sarà quella di oggi. Siete curiosi voi altri artisti. Quando vi giova, deridete la scienza. Non valutate nel loro giusto valore i tentativi, gli studi, le ipotesi che pur servono a farla progredire. Poi, se si dà un caso che personalmente vi interessa, pretendete che essa vi dia risposte chiare, precise, categoriche. Ci sono, purtroppo, scienziati che si prestano a questo gioco per convinzione o per vanità. Io non sono di questi. Vuoi che te la dica chiara e tonda? La scienza è la più gran prova della nostra ignoranza. Per tranquillizzarti ti ho parlato di allucinazioni, di induzione, di recettività. Parole, caro mio. Più studio e più mi sento preso dalla disperazione di sapere qualcosa di certo. Sembra fatto apposta. Quando gli scienziati si rallegrano di aver constatato una legge, paffete! Ecco un fatto, una scoperta che la butta giù con un mal rovescio. Bisogna rassegnarsi. E tu lascia andare. Quel che accade a te e alla tua signora è accaduto a tanti altri. Passerà. Che ti importa di sapere perché e come sia avvenuto? Ti inquietano forse i sogni? Se tu mi permettessi di parlare... Parla pure, già che vuoi sfogarti. Ma ti dico anticipatamente che fai peggio. L'unico modo di vincere certe impressioni è quello di distrarsi, di sovrapporre ad esse impressioni più forti, allontanandosi dai luoghi che probabilmente hanno contribuito a produrle. Un diavolo scaccia l'altro. È proverbio sapientissimo. Lo abbiamo fatto. È stato inutile. I primi fenomeni, le prime manifestazioni più evidenti, sono avvenuti in campagna nella nostra villa di Foscolara. Siamo scappati via, ma la sera stessa dell'arrivo in città... È naturale. Che distrazione poteva darvi la vostra casa? Dovevate viaggiare, far vita ad albergo, un giorno qua, un giorno là. Andare attorno l'intera giornata per chiese, monumenti, musei, teatri. Tornare all'albergo a sera tardi, stanchi morti. Abbiamo fatto anche questo, ma... Voi due soli, mi immagino. Dovevate cercare la compagnia di qualche amico, di una comitiva. Lo abbiamo fatto. Non è valso a niente. Chissà che comitiva. Di gente allegra. Gente egoista, vuoi dire. E vi siete trovati isolatissimi in mezzo ad essa. Capisco. Prendevamo anzi molta parte alla loro allegria. Sinceramente, spensieratamente. Appena però ci trovavamo soli, non potevamo mica condurre la comitiva a dormire con noi. Ma dunque dormivate? Ora non capisco più se tu intendi parlare di allucinazioni oppure di sogni. E picchia con le allucinazioni, coi sogni. Eravamo svegli, con tanto d'occhi spalancati nelle più limpide funzioni dei sensi e dello spirito, come in questo momento che vorrei ragionare con te e tu ti ostini a non volermi concedere... tutto quel che vuoi. Vorrei almeno esporti i fatti. Li so, me li figuro. I libri di scienza ne sono pieni zeppi. Potranno esservi diversità insignificanti nei minuti particolari. Non contano. L'essenziale natura del fenomeno non muta perciò. Non vuoi darmi neppure la soddisfazione? Cento, non una, già che ti fa piacere. Tu sei di coloro che amano di grogiolarsi nei dolori. Quasi vogliano centellinarseli. È stupido, scusa, ma se ti fa piacere... Francamente mi sembra che tu abbia paura. Paura di che? Sarebbe bella. Paura di dover mutare opinione. Hai detto... Io non credo agli spiriti. E se dopo fossi costretto a crederci... Ebbene, sì, questo mi seccherebbe. Che vuoi? Siamo così noi scienziati. Siamo uomini, caro mio. Quando il nostro modo di vedere, di giudicare, ha preso una piega, l'intelletto si rifiuta fin di prestare fede ai sensi. Anche l'intelligenza è affare di abitudine. Tu intanto mi metti con le spalle al muro. Sia, sentiamo dunque questi famosi fatti. Oh, esclamò con un largo respiro Lelio Giorgi. Già sai per quali tristi circostanze dovetti andarmene a cercare fortuna in America. I parenti di Luisa erano contrari alla nostra unione, come tutti i parenti, e non dico che avessero torto. Anche essi badavano più che ad altro alla situazione economica di colui che doveva essere il marito della loro figliuola. Non avevano fiducia nel mio ingegno. Diffidavano anzi della mia pretesa qualità di poeta. Quel volumetto di versi giovanili pubblicato allora è stato la mia maggiore disgrazia. Non che pubblicati, non ne ho scritti più da quell'anno in poi. Ma anche tu poco fa mi hai chiamato caro poeta. L'etichetta mi è rimasta appiccicata addosso, quasi fosse stata scritta con inchiostro indelebile. Basta, suol dirsi che c'è un dio per gli ubriachi e per i bambini. Bisognerebbe aggiungere... e talvolta anche per i poeti, giacché devo passare per poeta. Ecco come siete voi altri letterati. Cominciate sempre a bovo. Non spazientirti. Ascolta. Durante la mia dimora di tre anni a Buenos Aires non avevo più avuto nessuna notizia di Luisa. Piovutami dal cielo quell'eredità di uno zio che non s'era mai fatto vivo con me, tornai in Europa, corsi a Londra, e con 200.000 lire di cartelle della Banca d'Inghilterra volai qui, dove mi attendeva il più doloroso disinganno. Luisa era sposa da sei mesi, ed io l'amavo più di prima. La povera creatura aveva dovuto cedere alle insistenti pressioni dei suoi. Ci mancò poco, te lo giuro, che non commettessi una pazzia. Questi particolari, vedrai, non sono superflui. Commesi però la sciocchezza di scriverle una focosissima lettera di rimproveri e di spedirli alla perposta. Non avevo previsto che potesse capitare in mano del marito. Il giorno dopo, egli si presentò a casa mia. Compresi subito l'enormità del mio atto e mi proposì di essere calmo. Era calmo anche lui. «Vengo a restituirle questa lettera», mi disse. «Ho aperto sbadatamente, non per indiscrezione, la busta che la conteneva. Ed è stato bene che sia accaduto così. Mi hanno assicurato che lei è un gentiluomo. Rispetto il suo dolore, ma spero che lei non vorrà turbare inutilmente la pace di una famiglia. Se può fare lo sforzo di riflettere, si convincerà che nessuno ha voluto arrecarle del male volontariamente. Certe fatalità della vita non si sfuggono. Lei intende quale ormai il suo dovere. Le dico intanto, senza spavalderia, che sono risoluto a difendere a ogni costo la mia felicità domestica». Era impallidito parlando e gli tremava la voce. «Chiedo perdono dell'imprudenza», ma risposi. «E' per meglio rassicurarla. Le dico che domani partirò per Parigi». Dovevo essere più pallido di lui. Le parole mi uscivano a stento di bocca. Mi tese la mano, gliela strinsi e mantenni la parola. Sei mesi dopo ricevevo un telegramma di Luisa. «Sono vedova. T'amo sempre. E tu?» Suo marito era morto da due mesi. «Il mondo è così. La disgrazia di uno forma la felicità di un altro». È quel che egoisticamente pensai anch'io, ma non è sempre vero. Mi era parso di toccare il cielo con il dito la sera delle nozze durante i primi mesi della nostra unione. Evitammo, per tacito accordo, di parlare di colui. Luisa aveva distrutto ogni traccia del morto. Non per ingratitudine, giacché quegli, illudendosi di essere amato, aveva fatto ogni sforzo per renderle lieta la vita, ma perché temeva che l'ombra di un ricordo, anche insignificante, potesse dispiacermi. Indovinava giusto? Certe volte il pensiero che il corpo della mia adorata era stato in pieno possesso, comunque legittimo di un altro, mi dava tale stretta al cuore che mi faceva fremere da capo a piedi. Mi sforzavo di nasconderglielo. Spesso, però, l'intuito femminile velava di malinconia e begli occhi di Luisa, e perciò la vidi raggiante di gioia quando ella fu sicura di potermi annunciare che un frutto del nostro amore le palpitava nel seno. Ricordo benissimo. Prendevamo il caffè. Io in piedi, e la seduta con una posa di dolce stanchezza. Fu quella la prima volta che un accenno al passato le sfuggì dalle labbra. Come sono felice, esclamò, che questo sia avvenuto soltanto ora. Si udì un gran colpo all'uscio. Quasi qualcuno vi avesse picchiato forte con il pugno. Trasalimmo. Io corsi a vedere, sospettando una sbadataggine della cameriera o di un servitore. Nella stanza al lato non c'era nessuno. Vi sarà apparso colpo di pugno qualche schianto forse prodotto nel legno dell'uscio dal calore della stagione. Diedi tale spiegazione, visto il turbamento grandissimo di Luisa, ma non ne ero convinto. Un forte senso di impaccio, non so definirlo altrimenti, si era impossessato di me e non riuscivo a celarlo. Stemmo alcuni minuti in attesa. Niente. Da quel momento in poi, però, notai che Luisa evitava di rimanere sola. Il turbamento persisteva in lei, quantunque non osasse di confessarmelo né io di interrogarla. E così, ora comprendo, vi siete suggestionati, inconsapevolmente, a vicenda. Niente affatto. Pochi giorni dopo io ridevo di quella sciocca impressione e attribuivo allo stato interessante di Luisa l'eccessivo eccitamento nervoso che traspariva dai suoi atti. Poi parve tranquillarsi anch'essa. Avvenne il parto. Dopo qualche mese, però, mi accorsi che quel senso di paura, anzi di terrore, l'aveva ripresa. La notte, tutta un tratto, ella si avvinghiava a me di accia, tremante. «Che cos'hai? Ti senti male?» le andavo ansioso. «Ho paura. Non hai udito?» «No». «Non odi?» insistette la sera appresso. «No». Invece quella volta udivo un fioco suono di passi per la stanza, su e giù, attorno al letto. Dicevo di no per non atterrirla di più. Levavo il capo. Guardavo. Deve essere entrato qualche topo in camera. «Ho paura. Ho paura!» Per parecchie notti, ad ora fissa prima della mezzanotte, sempre quello scalpiccio, quell'inesplicabile andare e venire su e giù di persona invisibile attorno al letto. Lo le fantasie riscaldate facevano il resto. «Tu mi conosci bene. Non sono un uomo da essere eccitato facilmente. Facevo il bravo, anzi, per riguardo di Luisa. Tentavo di dare spiegazioni del fatto. Echi, ripercussioni di rumori lontani, accidentalità della costruzione della villa che la rendevano stranamente sonora. Tornammo in città, ma la notte appresso il fenomeno si riprodusse con maggior forza. Due volte la spalliera a piede il letto venne scossa con violenza. Balzai giù per osservare meglio. Luisa, rannicchiata sotto le coperte, balbettava. «Lui! Lui!» «Scusa», lo interruppe Mongeri. «Non te lo dico per mettere male tra tua moglie e te, ma io non sposerei una vedova per tutto l'oro del mondo. Qualcosa permane sempre del marito morto a dispetto di tutto nella vedova.» «Sì, è lui! È lui!» «Non già come crede tua moglie, l'anima del defunto.» «E quel lui! Cioè ci sono delle sensazioni, quelle impressioni di lui rimaste incancellabili nelle sue carni. Siamo in piena fisiologia.» «Sia pure, ma io», riprese Lelio Giorgi, «come centro con la tua fisiologia?» «Tu sei suggestionato. Ora è evidente. Evidentissimo.» «Suggestionato soltanto la notte? A ora fissa?» «L'attenzione aspettante.» «Oh, fa prodigi.» «E come mai il fenomeno varia ogni volta con particolari imprevisti, poiché la mia immaginazione non lavora punto.» «Ti pare? Non abbiamo sempre coscienza di quel che avviene dentro di noi? L'incosciente? Eh, eh, fa prodigi anch'esso.» «Lasciami continuare. Riserva le spiegazioni a quando avrò finito.» «Nota che la mattina, nella giornata, noi ragionavamo del fatto con relativa tranquillità.» «Luisa mi rendeva conto di quel che aveva sentito lei, per raffrontarlo con quel che avevo sentito io. Appunto per convincerci, come tu dici, semmai le fantasie sovraeccitate ci facessero nostro malgrado quel brutto scherzo.» «Risultava che avevamo sentito l'identico rumore di passi, nella stessa direzione, ora lento, ora accelerato.» «La stessa cosa alla spalliera del letto.» «Lo stesso strappo alle coperte, nella stessissima circostanza.» «Cioè quando io tentavo, con una carezza, con un bacio, di calmare il suo terrore, di impedirle di gridare «È lui! È lui!»» «Quasi quel bacio, quella carezza, provocassero lo sdegno della persona invisibile.» Poi una notte, Luisa, grappandomisi al collo, accostando le labbra al mio orecchio, con un suono di voce che mi fece trasalire, mi sussurrò. «Ha parlato! Che dici? Non ho sentito bene! Odi! Ha detto! Sei mia!» E siccome anch'io la stringevo più fortemente al petto, sentii che le braccia di Luisa venivano tratte indietro, violentemente, da due mani poterose, e dovettero cedere, nonostante la resistenza che mia moglie opponeva. Che resistenza poteva opporre se era lei stessa che agiva in quel modo senza averne coscienza? «Va bene, ma ho sentito l'ostacolo anche io, di persona che si frapponeva tra me e lei, di persona che voleva impedire a ogni costo il contatto tra me e lei. Ho visto mia moglie rigettata indietro con una spinta! Già che Luisa voleva stare in piedi per via del bambino che dormiva nella culla accanto al letto, ora che sentivamo scricchiolare i ferri a cui la culla era sospesa e vedevamo la culla dondolare, traballare, le copertine volare via per la camera, buttate per aria malamente! Non era allucinazione questa! Le raccoglievo! Luisa tremante le rimetteva al posto, ma di lì a poco esse volavano per aria di nuovo e il bambino, destato dalla scossa, piangeva. Tre notti fa peggio! Luisa sembrava vinta dal malefico fascino di colui. Non mi udiva più se la chiamavo, non si accorgeva di me che le stavo davanti. Parlava con colui e dalle sue risposte capivo quel che colui le diceva. Che colpa ho io se tu sei morto? Oh no no! Come puoi pensarlo? Avvelenarti io? Per sbarazzarmi di te? È un'infamia! E il bambino che colpa ha? Soffri! Pregherò per te! Farò dire delle messe! Non vuoi messe? Me vuoi? Ma come mai? Sei morto? In vano io la scotevo, la chiamavo per destarla da quella fissazione, da quell'allucinazione. Luisa si ricomponeva tutta un tratto. Hai sentito? Mi diceva. Mi accusa di averlo avvelenato. Tu non ci credi? Tu non mi sospetterai capace? Oddio! E come faremo per il bambino? Lo farà morire! Hai sentito? Io non avevo udito niente, ma capivo benissimo che Luisa non era pazza, non delirava. Piangeva abbracciando stretto stretto il bambino levato dalla culla per proteggerlo dal maleficio di colui. Come faremo? Come faremo? Il bambino però stava bene. Questo avrebbe dovuto tranquillarvi. Che vuoi? Non si assiste a fatti di tale natura senza che la mente più solida non ne riceva una scossa. Io non sono superstizioso, ma non sono neppure un libero pensatore. Sono di quelli che credono e non credono, che non si occupano di questioni religiose perché non hanno tempo né voglia di occuparsene. Ma nel mio caso, e sotto l'influenza delle parole di mia moglie, farò dire delle messe, pensai naturalmente all'intervento di un prete. L'hai fatta esorcizzare? No, ma ho fatto ribenedire la casa con gran spargimento di acqua benedetta, anche se per impressionare l'immaginazione della povera Luisa, semmai si fosse trattato di immaginazione esaltata, di nervi sconvolti. Luisa è credente. Tu ridi, ma avrei voluto vedere te nei miei panni. E l'acqua benedetta? Inefficace, come se non fosse stata adoperata. Non l'avevi pensato male. Anche la scienza ricorre talvolta a mezzi simili nelle malattie nervose. Abbiamo il caso di quel tale che credeva gli si fosse allungato enormemente il naso. Il medico finse di fargli l'operazione, con tutto l'apparato di strumenti, di legatura di vene, di fasciature. E il malato guarì. L'acqua benedetta, invece, fece peggio. La notte dopo... Mi sento rabbrividire al solo pensarci. Ora tutto l'odio di colui era rivolto contro il bambino. Come proteggerlo? Appena Luisa vedeva... O le sembrava di vedere. Vedeva, mio caro. Vedeva. Vedevo anche io, quasi. Già che mia moglie non poteva più avvicinarsi alla culla. Una strana forza glielo impediva. Io tremavo allo spettacolo di lei che tendeva desolatamente le braccia verso la culla, mentre colui, me lo diceva Luisa, chinato sul bambino dormente, faceva qualcosa di terribile, bocca con bocca, come se gli succhiasse la vita. Il sangue. Sono tre notti di seguito che la nefanda operazione si ripete e il bambino, il caro figliolino, non si riconosce più. Bianco da roseo che era. Come se realmente colui gli abbia aspirato il sangue, deperito in modo incredibile, in sole tre notti. È immaginazione questa. È immaginazione. Vieni a vederlo. Si tratta dunque... Il mongeri rimase alcuni minuti pensoso, a testa bassa, aggrottando le sopracciglia. Il sorriso un po' sarcastico e un po' compassionevole apparsogli sulle labbra mentre l'elio Giorgi parlava, si era spento tutta un tratto. Poi alzò gli occhi, fissò l'amico che lo guardava con ansiosissima attesa e ripetì. Si tratta dunque... Ascoltami bene. Io non ti spiego niente perché sono convinto di non poterti spiegare niente. È difficile essere più schietto di così. Ma posso darti un consiglio, empirico, che forse ti farà sorridere alla tua volta, specialmente venendoti da me. Fanne l'uso che credi. Lo eseguirò subito, oggi stesso. Ci vorrà qualche giorno, per parecchie pratiche che occorrono. Ti aiuterò a sbrigarle nel più breve tempo possibile. I fatti che mi hai riferito non li metto in dubbio. Devo aggiungere che, per quanto la scienza sia ritrosa di occuparsi di fenomeni di tale natura, da qualche tempo in qua non li tratta con l'aria sprezzante di prima. Tenta di farli rientrare nella cerchia dei fenomeni naturali. Per la scienza non esiste altro al di fuori di questo mondo materiale. Lo spirito... Essa lascia che dello spirito si occupino i credenti, i mistici, i fantastici che oggi si chiamano spiritisti. Per la scienza c'è di reale soltanto l'organismo. Questa compagine di carne e di ossa formante l'individuo è che si disgrega con la morte di esso, risolvendosi negli elementi chimici da cui riceveva funzionamento di vita e di pensiero. Disgregati questi... Ma appunto la questione si riduce, secondo qualcuno, a sapere se la putrefazione, la disgregazione degli atomi, o meglio la loro funzione organica, si arresti istantaneamente con la morte, annullando ipso facto la individualità o sequesta perduri, secondo i casi e le circostanze, più o meno lungamente dopo la morte. Si comincia a sospettarlo. E su questo punto la scienza verrebbe a trovarsi d'accordo con la credenza popolare. Io studio da tre anni i rimedi empirici delle donnicciuole, dei contadini, per spiegarmi il loro valore. Essi, spessissimo, guariscono mali che la scienza non sa guarire. La mia opinione oggi tu sai qual è? Che quei rimedi empirici, tradizionali, siano i resti, i frammenti della segreta scienza antica, e anche, più probabilmente, di quell'istinto che noi oggi possiamo verificare nelle bestie. L'uomo da principio, quando era molto vicino alle bestie più che ora non sia, divinava anche lui il valore terapeutico di certe erbe. E l'uso di esse si è perpetuato, trasmesso di generazione in generazione, come nelle bestie. In queste opera ancora l'istinto. Nell'uomo, dopo che lo svolgimento delle sue facoltà ha ottenebrato questa virtù primitiva, perdura unicamente la tradizione. Le donnicciuole, che sono più tenacemente attaccate ad essa, ci hanno conservato alcuni di quei suggerimenti della natura medicatrice. Ed io credo che la scienza debba occuparsi di questo fatto perché, in ogni superstizione, si nasconde qualcosa che non è unicamente fallace osservazione dell'ignoranza. Perdonami questa lunga digressione. Quello che qualche scienziato ora ammette, cioè che con l'atto apparente della morte di un individuo non cessi realmente il funzionamento dell'esistenza individuale, fino a che tutti gli elementi non si siano per intero disgregati, la superstizione popolare, ci serviamo di questa parola, lo ha già divinato da un pezzo con la credenza nei vampiri, ed ha divinato il rimedio. I vampiri sarebbero individualità più persistenti delle altre. Casirari, sì, ma possibili anche senza ammettere l'immortalità dell'anima, dello spirito. Non spalancare gli occhi, non crollare la testa. È fatto non insolito intorno al quale la cosiddetta superstizione popolare, diciamo meglio, la divinazione primitiva, potrebbe trovarsi d'accordo con la scienza. E sai qual è la difesa contro la malefica azione dei vampiri, di queste persistenti individualità che credono di poter prolungare la loro esistenza succhiando il sangue o l'essenza vitale delle persone sane? L'affrettamento della distruzione del loro corpo. Nelle località dove questo fatto si produce, le donnicciuole, i contadini, corrono al cimitero, disseppelliscono il cadavere, lo bruciano. È provato che il vampiro allora muore davvero, e infatti il fenomeno cessa. Tu dici che il tuo bambino... Vieni a vederlo. Non si riconosce più. Luisa è pazza dal dolore e dal terrore. Mi sento impazzire pure io, anche perché invasato dal diabolico sospetto, ma... In vano mi ripeto... Non è vero. Non può essere vero. In vano ho tentato di confortarmi pensando... È dato pure che fosse vero. È una gran prova d'amore. Si è fatta avvelenatrice per te. In vano. Non so, né posso più difendermi da una vivissima ripugnanza, da una straziante violenza di allontanamento, altra malefica opera di colui. Egli insiste nel rimprovero. Lo capisco dalle risposte di Luisa quando colui la tiene sotto il suo orrido fascino e la poverina protesta. Avvelenarti? Io? Come puoi crederlo? Oh, non viviamo più, amico mio. Sono mesi e mesi che sopportiamo questo tormento senza farne parole a nessuno per timore di far ridere di noi le persone che si dicono spregiudicate. Tu sei il primo a cui ho avuto il coraggio di farne la confidenza per disperazione, per invocare un consiglio, uno scampo. E avremmo ancora pazientemente sopportato tutto, losingandoci che così strani fenomeni non avrebbero potuto prolungarsi troppo, se ora non corresse pericolo la nostra innocente creaturina. Fate cremare il cadavere? È una prova che mi interessa, oltre che come amico, come scienziato. Alla moglie, quantunque non più vedova, sarà facilmente concesso. Ti aiuterò nelle pratiche occorrenti presso le autorità, e non mi vergogno per la scienza di cui sono un meschino cultore. La scienza non scapita di dignità ricorrendo anche all'empirismo, facendo tesoro di una superstizione. Se poi potrà verificare che è superstizione soltanto in apparenza, ne riceverà impulsi a ricerche non tentate, a scoprire verità non sospettate. La scienza deve essere modesta, buona, pur di aumentare il suo patrimonio di fatti, di verità. Fate cremare il cadavere. Ti parlo seriamente, soggiunse il mongeri, leggendo negli occhi del suo amico il dubbio di essere trattato da donnicciuola, da popolano ignorante. È il bambino, intanto, esclamò all'elio Giorgi torcendosi le mani. Una notte io ebbi un impeto di furore. Mi slanciai contro colui seguendo la direzione degli sguardi di Luisa, quasi egli fosse persona da potersi afferrare e strozzare. Mi slanciai urlando. Va via! Va via, maledetto! Ma fatti pochi passi, ero arrestato, paralizzato, inchiodato là, a distanza, con le parole che mi morivano in gola e non riuscivano a tradursi neppure in un indistinto mugolio. Tu non puoi credere, tu non puoi immaginare. Se volessi permettermi di tenervi compagnia questa notte... Ecco, me lo chiedi con tale accento di diffidenza. Ti inganni. Forse faremo peggio. Temo che la tua presenza non serva ad irritarlo di più come la benedizione della casa. Questa notte no. Verrò a riferirti domani. E il giorno dopo egli tornò così spaventato, così disfatto, che il mongeri concepì qualche dubbio intorno all'integrità delle facoltà mentali del suo amico. Egli sa, balbettò Lelio Giorgi appena entrato nello studio. Ah, che nottata d'inferno! Luisa lo ha sentito bestemmiare, urlare, minacciare terribili castighi se noi oseremo. Tanto più dobbiamo osare, rispose il mongeri. Se tu avessi visto quella culla scossa, agitata che io non so spiegarmi come il bambino non sia cascato per terra. Luisa ha dovuto buttarsi ginocchioni, invocando pietà, gridandogli, sì, sarò tua, tutta tua, ma risparmia quest'innocente! E in quel momento mi è parso che ogni mio legame con lei fosse rotto, che ella non fosse più davvero mia, ma sua, di colui! Calmati! Vinceremo! Calmati! Voglio essere con voi questa notte! Il mongeri era andato con la convinzione che la sua presenza avrebbe impedito la manifestazione del fenomeno. Pensava, accade quasi sempre così. Queste forze ignote vengono neutralizzate da forze indifferenti e strane. Accade quasi sempre così. Come? Perché? Un giorno certamente lo sapremo. Intanto bisogna osservare, studiare. E nelle prime ore di quella notte accadeva proprio come egli aveva pensato. La signora Luisa girava gli spauriti occhi attorno, tendeva ansiosamente l'orecchio. Niente. La culla rimaneva immobile. Il bambino, pallido pallido, dimagrito, dormiva tranquillamente. Lelio Giorgi, frenando a stento l'agitazione, guardava ora sua moglie, ora il mongeri che sorrideva soddisfatto. Intanto ragionavano di cose che, nonostante la preoccupazione, arrivavano in alcuni momenti a distrarli. Il mongeri aveva cominciato a raccontare una sua divertentissima avventura di viaggio. Bel parlatore, senza nessuna affettazione di gravità scientifica, egli intendeva di deviare così l'attenzione di quei due. E intanto non perderli d'occhio per notare tutte le fasi del fenomeno, casomai dovesse ripetersi. Già cominciava a persuadersi che il suo intervento sarebbe stato salutare, quando nell'istante che il suo sguardo si era rivolto verso la culla, egli si accorse di un lieve movimento di essa, il quale non poteva essere prodotto da nessuno di loro, perché la signora Luisa e lelio gli sedevano di rimpetto e discosti dal posto dove era la culla. Non potè fare a meno di fermarsi, di farsi scorgere, e allora Luisa e lelio balzarono in piedi. Il movimento era aumentato gradatamente, e quando la signora Luisa si volse a guardare là, dove gli occhi di Mongeri si erano involontariamente fissati, la culla si dondolava e sobbalzava. «Eccolo!» Ella gridò. «Oddio, povero figliuolino!» Fece per accorrere, ma non potè, e cadde rovesciata sulla poltrona dove era stata seduta fino allora. Pallidissima, scossa da un fremito per tutta la persona, con gli occhi sbarrati e le pupille immobili, balbettava qualcosa che le gorgogliava nella gola, e non prendeva suono di parola e sembrava dovesse soffocarla. «Non è niente!» disse Mongeri, levatosi in piedi anche lui e stringendo la mano di lelio che gli si era accostato con vivissimo atto di terrore, quasi per difesa. La signora Luisa, irrigiditasi un istante, ebbe un tremito più violento, e subito parve ritornasse allo stato ordinario. Se non che la sua attenzione era tutta diretta a guardare qualcosa che gli altri due non scorgevano, a prestare ascolto a parole che quelli non udivano, e delle quali indovinavano il senso dalle risposte di lei. «Perché dici che voglio continuare a farti del male? Ho pregato per te, ho fatto dire delle messe, ma non si può sciogliere! Tu sei morto! Non sei morto! Dunque perché mi accusi di averti avvelenato? D'accordo con lui! Oh, ti aveva promesso, sì, ed ha mantenuto! Per finzione! Ci mi ha spedito il veleno! È assurdo! Non dovresti crederlo se è vero che i morti vedono la verità! Va bene, non ti stimerò morto! Non te lo ripeterò più!» «E in uno stato di trance spontanea», disse Mongeri all'orecchio di Lelio. «Lasciami». Presala per i pollici, dopo qualche minuto e ad alta voce chiamò «Signora». Alla voce cupa e irritata, voce robusta, maschile, con cui ella rispose, Mongeri die un salto indietro. La signora Luisa si era rizzata sul busto con tale viso rabbuiato, con tale espressione di durezza nei lineamenti da sembrare altra persona. La speciale bellezza della sua fisionomia, quel che di gentile, di buono, quasi di virginale che risultava dalla dolcezza dello sguardo dei begli occhi azzurri e da lieve sorriso errante sulle labbra come un delicato palpito di esse, quella speciale bellezza era compiutamente sparita. «Che cosa vuoi? Perché ti intrometti tu?» Mongeri riprese quasi subito padronanza di sé. L'abituale sua diffidenza di scienziato gli faceva sospettare di aver dovuto sentire anche lui, per induzione, per consenso dei centri nervosi, l'influsso del forte stato di allucinazione di quei due, se gli era parso di veder dondolare e sobbalzare la culla che, ora, egli vedeva benissimo immobile, con dentro il bambino tranquillamente addormentato, ora che la sua attenzione veniva attirata dallo straordinario fenomeno della personificazione del fantasma. Si accostò con un senso di dispetto contro se stesso, per quello sbalzo indietro al rude suono di voce che lo aveva quasi investito, rispose imperiosamente «Finiscila, te l'ordino!» Aveva messo nell'espressione tale sforzo di volontà che il comando avrebbe dovuto imporsi all'esaltamento nervoso della signora. «Superarlo», egli pensava. La sardonica e lunga risata che rispose subito a quel «te l'ordino» lo scosse e lo fece titubare un istante. «Finiscila, te l'ordino!» replicò poi con maggiore forza. «Vuoi essere il terzo che gode! Avvelenerete anche lui? Mentisci infamemente!» Mongeri non aveva potuto trattenersi di rispondere come a persona viva, e la lucidità della sua mente già un po' turbata, nonostante gli sforzi che egli faceva per rimanere osservatore attento e imparziale, venne sconvolta a un tratto quando si sentì battere due volte sulla spalla da mano invisibile, e nel medesimo istante vide apparire davanti al lume una mano grigiastra, mezzo trasparente, quasi fosse fatta di fumo, e che contraeva e distendeva con un rapido moto le dita, assottigliandosi come se il calore della fiamma la facesse evaporare. «Vedi! Vedi!» gli disse Giorgi, e aveva il pianto nella voce. Improvvisamente ogni fenomeno cessò. La signora Luisa si destava dal suo stato di trance, quasi si svegliasse da sonno naturale, e girava gli occhi per la camera, interrogando il marito e Mongeri con una breve mossa del capo. Essi si interrogavano alla loro volta sbalorditi di quel senso di serenità, o meglio di liberazione che rendeva facile il loro respiro e regolari i battiti del cuore. Nessuno osava parlare, solamente un fiocolamento dei bambini li fece accorrere ansiosi verso la culla. Il bambino gemeva, gemeva, dibattendosi sotto l'oppressione di qualcosa che sembrava aggravarglisi sulla bocca e gli impedisse di gridare. Improvvisamente cessò anche questo fenomeno, e non accadde più altro. La mattina, andando via, Mongeri non pensava soltanto che gli scienziati hanno torto di non voler studiare da vicino casi che coincidono con le superstizioni popolari, ma tornava a ripetersi mentalmente quel che aveva detto due giorni avanti al suo amico. «Non sposerei una vedova per tutto l'oro del mondo». Come scienziato è stato ammirevole, conducendo l'esperimento fino all'ultimo senza punto curarsi se, nel caso che la cremazione del cadavere del primo marito della signora Luisa non avesse approdato a niente, la sua reputazione di scienziato dovesse soffrirne presso i colleghi e presso il pubblico. Quantunque l'esperimento abbia confermato la credenza popolare e, dal giorno della cremazione dei resti del cadavere, i fenomeni siano compiutamente cessati, con gran sollievo di Lelio Giorgi e della buona signora Luisa nella sua relazione non ancora pubblicata il Mongeri però non ha saputo mostrarsi interamente sincero. «Non ha detto! I fatti sono questi, e questo è il risultato del rimedio. La pretesa superstizione popolare ha avuto ragione sulle negazioni della scienza. Il vampiro è morto completamente appena il suo corpo venne cremato. No, egli ha messo tanti sé, tanti ma nella narrazione delle minime circostanze. Ha sfoggiato tanta allucinazione, tanta suggestione, tanta induzione nervosa nel suo ragionamento scientifico da confermare quel che aveva confessato l'altra volta, cioè che anche l'intelligenza è affare d'abitudine e che il mutare di parere lo avrebbe seccato. Il più curioso è che non si è mostrato più coerente come uomo. Egli che proclamava «Non sposerei una vedova per tutto l'oro del mondo» ne ha poi sposata una per molto meno, per sessantamila lire di dote. E a Lelio Giorgi, che ingenuamente gli disse «Ma come? Tu?». Rispose «A quest'ora non esistono insieme neppure due atomi del corpo del primo marito. È morto da sei anni». Senza accorgersi che parlando così contraddiceva l'autore della memoria scientifica un preteso caso di vampirismo, cioè se stesso. Qui finisce Un vampiro di Luigi Capuana. Se questo racconto ti è piaciuto e la mia voce per te è una gradevole compagnia, per favore lasciami un like e un commento. Ti risponderò con vero piacere. Se hai ancora voglia di ascoltare, leggo per te una breve biografia dell'autore. Luigi Capuana, 1839-1915. Nato a Mineo, in Sicilia, fu uno dei teorici del romanzo verista italiano. Critico di larga cultura, vivo e penetrante, fu scrittore di romanzi e novelle di ispirazione naturalistica, ma anche di fiabe e racconti, come quello che presentiamo, nei quali manifesta interessi eterogenei. La sua opera più nota è il romanzo Il Marchese di Roccaverdina, pubblicato nel 1901, dove l'ambiente aspro dell'ostinato feudalesimo siciliano è rappresentato con rara vigoria drammatica. Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Un grosso abbraccio da Rosanna Lia. Ci sentiamo presto con un nuovo bellissimo audio racconto.